Allora, abbiamo fatto una bellissima classe dello sniper Niente che mina, niente che... No, la mappa di merda, non voglio giocare la mappa di... Giochiamo la mappa di merda Devastante No, sta finendo Ragazzi, faccio la prima kill io, guarda Fertissimo pulo Ok Ah, comunque ancora un po' lento a mirare No Ah che palla Ragazzi vorrebbe sti shanky drop Della beta Una roba stile non lo so come funziona Ah Sono morto vero Allora il bello che Il bello che E' ancora lento sto cecchino a mirare però Che cazzo è Oh cristo Ci penso Ragazzi è no scoop questo eh Che l'ha morto Era no scoop ve lo giuro Ehi questo non è paintball Ah madonna E' lentissimo a mirare Devo sbloccarmi qualcosa che mi permette di mirare più velocemente Come l'ho preso però Gli sniper sembrano one shotare devo dire ragazzi Cioè non è male Già questo video comunque è meglio rispetto alla Alla default Questo senza ombre di dubbio La mappa diciamo non è il massimo per il cecchino Secondo me questa Ma dai Non sono sparati dietro Mamma mia Stompato No Minchia ci stavo per sparare Ah Eh il movement ragazzi E' devastabile E' incredibile il movement Quello senza ombre di dubbio Aspetta Pizzolettavo Peccato che il cecchino è molto lento Ma dai E muorici Madonna Serve un mirino che Sia più veloce Sì Ho un accessorio per Prova di mirare più velocemente Vedo un cazzo Come on Non capisco Ma che cazzo che mi sparo Ah madonna era dietro Lo sniper più piccolo Ah non one shot All'altro Eh Ah si è vero È vero Questo No Bello One shot Tu abili Sarancina Va No No Non ci credo Com'era l'ostaggio? Non ho capito Cioè lo stile Non ho capito Ma dai Ragazzi questo è il no scoop Guarda Ci ho provato Eh vabbè Eh il turbo sdunkato si Para! Madonna Non so se posso fare l'echimo con le pistole ma Oh Dai Allora il problema Principale secondo me è appunto il fatto della mira che è troppo lenta ancora Sicuramente si sblocca qualche accessorio La mappa non aiuta perché è una mappa Fatta per lo scontro morto ravvicinato quindi Usare un cerchino da folli Ma folli 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 proprio Eh Però Ci si prova Secondo me nell'altra mappa quella lì Stile dome non mi ricordo come si chiama Secondo me è già questa classe Fa scintilla Nooo Madonna E' dura un bel po' questa partita Ci sta Ci sta Beh la granata mi è piaciuta Ah Eh vabbè Però non puoi sapere la granata Guarda 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 i movement Oh Oh Perfetto Oh Guarda i provi a fare un bel trickshot Un qualcosa di stotto Ma ci ho capito una sega Quanti erano Arrivo Ci ho capito una minchia Ci ho capito altrimenti una minchia Allora corrono tantissimi nei mish Questo si è capito Cioè uno deve stare lì 400% del suo cervello Oh ma io raga Voglio più messaggi nella chat Però quando gioco a COD Dove sono i miei GG Quando ammazzo uno Un i miei GG O mi insulti quando Quando ho misso i colpi Non vedo un cazzo Cioè abbiamo un bellissimo Le motte con la L Vabbè mo loser Mo l'ella Fino a suo punto Non vedo un po' Ma qui non è una sega 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 Madonna No Madonna ragazzi Allora appena ti hittano La mira veramente Cioè Incomincia a fare così la mira Così Così Non si capisce una sega Vabbè Cioè lo fa tutto così Vabbè Vabbè dai raga Io ci ho sparato Io Bromaggio Nice shot Grazie Quanti cazzo erano No Jeremy Jeremy Come cacchi si chiama Porca mi sono cacato in mano Ah Vabbè ragazzi Ma sei disteso Poi penso che I proiettili Che Che lasciano la traccia Sono la cosa peggiore Di questo mondo Perché proprio Non si vede Una Ma l'ho ammazzata Oh Oh È mortale È morto Mi chiaro ora No raga Mezzo colpo è entrato Ma dove Ma ti pare Voglio fare almeno La mia Quad feed Posso? Non l'ho vista La terminiamo Sta partita Per favore Sta durando 60 anni Veramente basta Gordo con la granata Non c'ho capito Una minchia Oh Basta Ok Cambiamo mappa 44-41 Però Non male Non male Ah C'è anche se C'è un lifanz Come on Immagina se il KD Era 1-0-4 Comunque Posso dire Che Come movement E tutto È carino Nelle mappe piccole Secondo me Col cecchino È veramente difficile A meno che Uno non sblocca Un cecchino migliore Che ci sarà Assurante Perché in beta Non hai tutte le armi Qualche accessorio migliore Qualcosa di sbroccato Qualche perk Non lo so Però Però Ma vediamo Weapons Vediamo cosa Cosa possiamo Allora In laser Tactical stance Hipfire spread Sarebbe interessante Barrett velocity Non mi interessa Optic Servirebbe Questo Oddio Questo qui è il coso L'ACOG Mettiamoci questo Cos'è Tactical stance Me lo cercate Su Translate No rega Non ho sta mappa di merda No per favore Dobbiamo provare a metterci Il 3x Ci mettiamo il 3x Ma io non sei più veloce Con il 3x Dita Togliamo questo Ci mettiamo Questo Ma non è cambiato No ho chiesto It's a market Ma Ma me l'ha messo Ma non me l'ha cambiato Mi sa Ah ora Ora è cambiato Oddio Non è No rega La velocità è sempre quella Mi sa No rega La velocità è sempre quella Anzi è peggio sto mirino Secondo me La velocità è proprio Ma è sballato Ma è rotto Metti No ma è uguale la velocità Fa cacare No rega Bruttissimo Aia Madonna Guarda che mi sparava No rega Mi mette sempre Usciamo da sta partita Live match Live Intanto basta sta mappa Fine match Vai Weapons Load out Allora Ci rimettiamo Cos'è La tactical stance Boh Rip spread è la grandezza della rosa Quando spari senza mirare Che ci sta Se facciamo un paio di no scoop Due colpi in più Non sarebbe male Però Allora Io ho Aim downside speed Che dovrebbe essere La Questa Poi c'è La E lo Sprint to fire speed Che Sarebbe interessante Andiamo a provare Poi mettere dopo quello Ma ci sono 35 v5 Sì 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 Ok Aspetta posso dire che è più veloce Col coso Col laser Mi pare più veloce Aia Ma che cazzo è Ci prendono Ci prendono Sono scarso Sono scarsissimo Ma come ne ho missati tutti Ce l'ho hittavo Ce l'ho hittavo No grazie per la linciotta Va bene Va bene Ok Ah è il compagno Ok No Con la ricompagno Ah vabbè Ma che cazzo ha fatto Quello Tutto su Corrimano Frex Grazie mille Ti aggrada COD Aia Cristo No ragazzi Ma mi sono tuffato Nell'oblio Ma dove mi sono tuffato Grazie mille bro Entri nel gruppo Telegram Mi raccomando Madonna E' rata la macchina Se l'ha vista Mannaggia Dai grazie mille Frex Se fai punto di schermo di OTG Link nel gruppo Telegram Uno No Raga Io miro a fare la mia Quad feed No ma Là c'è ton'opse A parlare No ma c'è un francese Che parla No ma c'è un francese No ma c'è un francese Aio Non so dire francese In realtà Prima Mi sa da dare tu Oh Ma inimichi Mi minchia sono i nemici Non vedo niente C'è un francese C'è un francese E' carica Giù 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 Ma io Eh vabbè Ah ah Francese Oddio l'ho ammazzato Non so come Ma va bene lo stesso Non cansi Capisce un cazzo Non c'è un cazzo No 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 Michia come l'ho preso Mentre si tuffava Il coglionito Aio No 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 Tutto ok Tutto ok Ma chi è Muta Ma chi è Fatto Ah ah Ma chi è Sto avviando fuoco Non vedo un cazzo Allora Io vorrei provare Un bel 360 Qualcosa di Sono morto Oh Non è paintball Questo Hai capito bro Sto morto Distrutt C'è lui ho avuto il tempo Di fare un 360 E ammazzarmi Prima che io Prendessi la mira Ci ho provato Fratello Io ci ho provato Ci ho provato A fare Un B36 Ma Niente Non sono fatta Missarlo Raga È imprendibile Questo Vabbè Massa Parca la buttana No 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 Sto ricaricando Aspetta Ciao Ciao Oddio Ma Dove cazzo è arrivato Questo Oh ma Ce l'ha soltanto Con me Sto elicottero Seriamente Oh Sto Xela Raga Soltanto lui Mi ha killato In questa partita Se ha 60 kill Sono tutte Mie morti Vabbè La pistola Ragazzi Io Non la so mai Utilizzare Sono atrofizzato Praticamente Io ormai Oh Appena Ti hittano Mira puttana Non devi far Tittare Qua ho missato Io E' peggio DCS Come dittano Qua Ahia Sono morto Oh Aspetta Un mostro Un mostro Fortissimo A sparare Fa cacare Ma il biliardo E' un king Il king del biliardo Easy Devastante Oh E' lui E' lui Guardalo Questo Non mi Questo manco Mira Appena Mirato Incredibile Incredibile Ma Vero Dai Voglio fare L'altra Mappa Basta Videogiochi Ragazzi King del biliardo Tolgo Tutta la postazione Metto un tavolo Da biliardo Qua dentro Che in realtà Ci starebbe Sì Aspetta Forse Ho sbloccato Qualcosa Interessante Weapons Forse Ho sbloccato Qualcosa Ma ancora Ma ancora sta Mappa Madonna Due mappe Ci sono Ma il biliardo Mica è ludopatia Regà Ma che cosa Dita Da quando Aim Idol Sway Aim Ah ma è quello Che fai così Oh ma Mettiamo questo Tipo Ok Oh Posso giocare Vabbè ragazzi Imprendibili No raga E' pure Hard point Quella che dura 60 anni Fatto la clip Buono 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 King del biliardo Niente Regà Imprendibili Non riesco più a prendere Un nemico Ho fatto La roba del biliardo Basta E' finita Ma chi cazzo è C'è Ma questo Ma raga Ma non mi entrano i colpi C'è Sto facendo 0-5 No Allora Fai il match Mi sa che Tocca rimettere Orizzonta Vabbè sì Dai Dai Ma c'è poi proprio un accessorio Che è Indoc Ok Ah questo qui Nevi di mezzo Questo pure Ah vabbè Ma tipo Uno stock Movement Spin Aim Walking Spin Non c'è Molto che ti Da una mano Aim Downside Focus Forse Questa qua È buona Sì Non c'è Non c'è Sto vedendo Ma non c'è Proprio niente Che ti dà una mano A migliorare La velocità Del Del Cosa No Regalata La mappa Di merda No dai Per favore Ma posso Tipo Non posso Togliere Nella mappa E niente Vai No 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 Fin quando Non esce L'altra mappa Dai Voglio farmi L'altra mappa La colonna Sonale Bellissimo No ma Basta Voglio la terza mappa Esce Adesso No Mi sali No Kung Regami Se faccio Un'altra Facciamo un'altra Mezz'oretta E poi si va Su Wukongo Sì ma Scud Eccola Bellissima Miglior mappa Di sempre Scud Dai Ci siamo È la clip pure in privato Grazie mille Però peccato che Team Deathmatch Dura 5 minuti Dai Cerchiamo di fare La magia In questa mappa Mira di merda Mira di merda Mira di merda A posto Faccio cagare A posto Il problema Non è la mappa È il player Un'altra mappa Poi li prendi in volo Capito Capito È chiaro che in Deathmatch E quindi non Non hai Dei punti precisi Di spawn Allora Allora Comunque Le armi Non cecchino Gli assalti Mitragliette Proprio Ti perforano Che cazzo E dai Regà Distrutto 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 Buona cena Cioè ti fanno Perdere Praticamente La Proprio La mira Quasi E quindi È molto Difficile Porca Troia È Call of Duty Sì 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 Call of Duty Non ci credo Buono Uno è andato Questo pure No Ragazzi Quello lì col giubbottola Che cazzo è Che è Se è titto Sei fottuto Cioè ti Cioè ti Ti fa proprio Volare con la mira Non so che arma Sta usando È devastante Guarda Cioè raga Con un colpo Mi ha tolto Quasi metà vita Con un solo colpo Ma porca Ma vedete Ma che distanza Guarda Porca Porca Troia O O O Veloci Zoni Cecchini O Sto gioco Farò di Come la fine Secondo me Di Negli scorsi Che tutti Vanno Poi con le armette Eccetera E quindi Muore la community Praticamente Perché la community Di code Andava avanti Grazie ai montaggi Degli sniper Togli questo Hai tolto tutto Praticamente Rimane sempre Come i T-Warzone Diciamo Godo Mamma mia Ballo Grandissimo Ballo del Godo No Sono ribeccato In faccia Eh ma Quelli sono già Fucili tattici Sono infatti Leggermente Più vicini Dei cecchini Dei cecchini Proprio Se non sbaglio C'è proprio La categoria Fucile tattico Su Mv3 Ma smettila Olè Sono stato grazie Da un colpo Ora Esigerei Una clip A riguardo Perché il mio occhio Ha visto che c'era più Un nemico Nel mio mirino Che chissà che cosa Eh vai Madonna La sera Auto Ho mandato al barretto Quello Peccato Persa Oh 14 a 7 Allora Non mi è piaciuta Sta partita Non mi è piaciuta Non mi è piaciuta 0 0 0 Però veramente Oh Hanno Triturato C'è Oh Ah Secondo me Dove Servirebbero Uno Massimo Veramente Due colpi In più Per killarti Con le mitragliette L'assalto Ancora Ancora ci può Ma le mitragliette Sono devastanti Perché È molto veloce Time to kill Quindi se tu mi aumenti Time to kill Gli sniper A meno che tu non vuoi Che in questo gioco Li devo giocare Da Come la battlefield Che tipo me ne sto Appollaiato Chissà dove E non come È nato Realmente Code E allora Dei rendermeli Più veloci Anche perché Non ci sono C'è C'è Soltanto ragazzi C'è Sniper Marksman Ma A meno che Ne li mettono qua Allora E non c'è altro Ma che signor banana Sembra Questo qui Questo Ma che è No ma come si No usciamo Da qua Vai Sembrava Signor banana Diceva Allora C'è Mi da un po' Che rientro Nelle tue live Che bello Vedersi giocare A COD Comunque piace Dai Noi riusciamo A ribeccare Un'altra partita No No raga Hardpoint Su No Hardpoint Su quella mappa No per favore Ma non è che Tipo in base All'operatore Cambia qualcosa No C'è Gli operatori Sono sempre Una roba Estetica Non è che c'è Tipo quello che è Un po' Meglio Sulla mira No E invece C'è ancora scritto Che giochi a Minecraft Ma come No È vero Così da mia Porterei anche Warzone in futuro Non lo so Dominic Sinceramente Ti direi una cavolata Anger che Diciamo La community Che c'è adesso Non è che Me l'ha sempre Chiesto COD o altro Ecco Poi me lo chiede Porto COD E siamo in 5 Quindi Dico Boh Vabbè A questo punto C'è camocelo insieme Sul Discord Mi 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 Ancora Team Deathmatch Eliminate Ancora Team Deathmatch Ma che paolo Nooo Nooo Vabbè piglia Piglia e puttata la casa Guardalo ragazzi Che fai il tappeto Eh niente Però si Vede che comunque Sono più persone Nella community Che vogliono COD Io Ce lo porto Anche perché C'è un gioco Che comunque a me piace Ecco Eh siamo tanti Perché siamo in front page Regà Tutto settembre Saremo in front page Io ogni anno Faccio Se non sbaglio Cos'è Maggio E settembre In front page Una roba simila Nooo Godo Oh Aiuto Ce l'ho dietro Ce l'ho sopra Ma porca troia Sasori Master Sasori Aia Cristo E' uno E' due E' tre E' uno E' due E' tre T'ho sperato Regà Ma capo Ma era due centimetri Nel mio mirino Era dentro Nel mio mirino Era dentro Nel mio cazzo Il mirino era dentro Tocca perdere Quella frazzini Di secondi in più Ragazzi E prendere meglio La mira Perché se no Uno non riesce A fare I Oh Ciao Eh vabbè Ma ti pareva Che riusciva a fare Grande mossa Con il nuovo movement Ma va Ma ti sembra Magari fosse come la WP Minchia ragazzi La WP su CS Vedete che certi shot Che faccio Quanto sono veloce C'è Uno non ci fa niente caso Quando miro Qua uno deve proprio Mettersi là Con Il compasso A pigliare Tutte le misure E l'angolazione Tra poco Oh ho visto Sono sciamo Godo Godereccio E godicchio E uno E uno Guarda 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 C'è Qua non puoi switchare E uno E due Regà 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 Mi ha sgozzato Mi ha Mi ha sgozzato Ma io non capisco Ma certi sparano Cannonate Ma che armi hanno Cannone di una Contraerei Sono morto Sono morto Cucu Eh vabbè dai Quello stava lì ragazzi Col turbante Messo mezz'ora A mirarmi Io ho avuto il tempo Di saltare due volte E scivolare due Sono morto No scupa È morto Peccato Non l'ho visto Tucu 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 Vado Prendi sta polpetta Prendi pure questa Ma che cazzo Ti ho fatto quello Guardalo Sono morto Non sono morto 3,60 Sì alcuni ragazzi Ti lanciano proiettili Grossi così Emerald Sono io Top player E uno E due E tre Ah non c'è il quarto Vabbè dai Dai Questa mappa è bellissima Perché ha una bella grandezza Bella libera Quindi con il cecchino Te la giochi veramente molto bene Questa qui veramente È molto 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 carina Come mappa Facciamo l'ultima Che poi sono fatte già le 10 Andiamo su Wukong Va bene Che poi su Wukong Volevo mettere anche una mod Prima di startare Per vedere meglio Delle cose Scud Scud Hard point su Scud E la vita È bellissimo Ma questi Allora Raga Battlenet PC Televisione Xbox Cos'è questo Che periferi che è Che piattaforma è No non voglio mettere La maglia del palermo Alla scimmia Perché c'è la mod No voglio mettere Una mod Che mi dà più info Sui power up Che faccio Non so Ma che cos'è C'è questo Xbox E questo PlayStation Sarà il logo Della play Penso PC Amazon Fire Stick Tipo Bella raga Hard point su Scud Miro mappa di sempre Iniziamo Dai Ah non è che ho sbloccato Qualcosa Vabbè dai andiamo 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 Nintendo DS È meglio Warface No 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 Nintendo Wii Qui con il nunchuck Con il controller Nunchuck Così Vai Ragazzi Voglio fare Delir In questa partita Ma cosa mi ha sparato Ma 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 ti non ha sbordato Scusate Ma ero tutto bianco Ma che è successo Ma che colpi hanno i nemici Ma smettila Ma ancora lì Ma quello lancia Palle di neve Ci ho voluto pensare un attimo Ancora Sempre lui con le palle di neve Che i nemici giocano a Valorant C'hanno le spell Esci Sono forte Call the ambulance Call the ambulance But not for me No Oddio raga Ci ho provato Ma dai Mi ha turbo sbordato in bocca Quello Sì È stato abbastanza Strano Devo dire A me ne l'assorto Vabbè raga Salve Oddio Ho visto saltare Eccolo No 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 Ma ci penso io ragazzi tranquilli Buongiorno Morto Mi piace quello con la macchina telecomandata Dai GGGGGGGG Go 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 No sempre da dietro Non ho rotto il cazzo Ma è sopra Lo spot dell'antenna è mio Deciso Me lo prendo Oh ancora da dietro Mamma mia Di dietro ferisce Di dietro ferisce Madonna di no da dietro È sempre quello là ragazzi Olè Vendetta Ho fatto però Madonna Eccolo Eccolo E' uno Minchia Quando ti mirano Basta Finita Festa Festa finita Tutti a casa Ah l'antenna è mia adesso eh Ma che cazzo era Ma che cazzo era Sono morto Sono morto Sono morto Sono morto Sono morto Ho missato Quattro colpi No no Quello sta ancora lì Sto punticino qua è devastante E' lì E' lì Eccolo Guardalo No Si era messo in head glitch In head shot Insomma Madre buttana Sono morto Non è vero Oh cristo Dei corrobori Tiri in giro Oddio Uno Due No Vabbè va Vabbè va Vabbè va È in back No L'ho visto Ok Ok Uno Due Porca droga Con lanciarazzi A figlio di mignotta Sono morta No Rega La mia quad feed splittata Ma Io non ho granata là dentro Io la lancio Non ce l'ho Aspetta Se mi sono fatto male da solo ragazzi Salve Che cazzo Minchia collateral Godo Godoreccio Ancora lì sta quello È morto Via 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 No È già finita 38 e 18 Bella partita Bella partita Che dire Sono io Emerald Piacere Guarda 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 Uno Due Con lanciarazzi Tre E poi Miss Vabbè per il meme Se la prendeva era bellissimo Quattro Mamma mia Bene Ragazzi Bella Bella giocata Bella giocata Mi è piaciuta Mi è piaciuta Ragazzuoli Direi che per oggi Per Con le cops Beta Va bene così Dai Ho dato Del mio meglio Ciao